Da quando è iniziata la scuola la sottosegretaria dell'istruzione Paola Frassinetti ha iniziato un tour in tutta Italia incontrando le varie realtà. Questa volta è toccato l'Istituto Pertini Santoni ricevere questa visita e noi siamo andati ad incontrare il sottosegretario presso il liceo Santoni sul banco della discussione e il dimensionamento scolastico ma siamo partiti dalla settimana corta che l'Istituto ha adottato spalmando le ore del sabato negli altri giorni della settimana. Sì, è stata una sperimentazione che la scuola mi ha annunciato nei mesi scorsi e il Ministero ha dato un parere favorevole perché nell'autonomia scolastica esiste questa possibilità di auto-organizzarsi, di flessibilità e quindi soprattutto per questo territorio è un esperimento innovativo che abbiamo accolto con piacere che darà secondo me i suoi risultati. Protagonisti i ragazzi del liceo con le loro opere e il loro saper fare alla presenza delle autorità civili e militari presso l'auditorium Giuseppe Parretta. Sicuramente è un applicativo migliorativo, noi puntiamo molto sull'innovazione digitale tecnologica per far sì che le scuole italiane siano al passo coi tempi, vogliamo anche garantire un'omogeneità di territori, quindi ridurre sempre di più il divario tra nord e sud è uno degli obiettivi del Ministero, anche nel campo della digitalizzazione. Una legge di bilancio che però penalizza il mondo della scuola e il futuro dei ragazzi. Io penso che la scuola, mai come in questo momento, abbia avuto nella chiusura del contratto per tutto il personale scolastico una gratificazione. Erano anni che i docenti, il personale amministrativo, il personale ATA non aveva un aumento di stipendio. Adesso ci sono ben circa un miliardo e due proprio per garantire gli arretrati e per garantire un aumento, un busta paga agli insegnanti. Quindi direi che se questi sono i tagli alla scuola non è proprio questo l'anno in cui parlarne. L'autonomia differenziata nella scuola è un problema secondo me che va trattato con molta delicatezza. Io penso che l'unitarietà della scuola sia importante perché le regioni hanno delle competenze sulla formazione professionale sicuramente importanti, ma l'unitarietà della scuola italiana per quanto riguarda soprattutto gli organici, l'organizzazione dei docenti, l'organizzazione strutturale penso non verrà assolutamente intaccata. La dispersione scolastica è sicuramente uno dei problemi più gravi ai quali dobbiamo porre rimedio. Esiste dispersione scolastica soprattutto al sud, bisogna rimediare con dei progetti personalizzati nelle scuole, con professori ad hoc che seguano gli studenti più fragili, con l'estensione del tempo pieno in modo da dare un aiuto concreto alle famiglie. garantendo inclusione e soprattutto la possibilità di avere un orientamento efficace che faccia scegliere ai ragazzi il percorso giusto senza esitazioni e senza sbagliare.